Gli studenti sono convocati alla campanella del 14 settembre, ma a scuola c'è chi ci tornerà prima, non per sedersi sui banchi ma per calcare un palcoscenico. Dal 10 al 13 settembre liceo Marconi di Pesaro metterà infatti in scena nel proprio cortile interno il musical A Forza di Essere Vento, una vocazione quella delle musical proprio del liceo musicale Marconi che recupera ora un evento cancellato nel lockdown di primavera. Lo spettacolo rievoca il 75esimo anniversario dello sterminio dei rom Sinti nel campo di concentramento di Auschwitz, un soggetto messo in scena non solo dagli studenti dell'iceo Marconi ma anche del Mamiani, Cecchi, Bramante Genga, Benelli, Santa Marta, Apollone di Fano, Itis Mattei e Scuola del Libro di Urbino. Siamo preparati e abbiamo cercato di essere un po' proattivi, cioè da quando è iniziata l'epidemia abbiamo iniziato a ripensare un modo diverso di fare le prove, un modo diverso di farle attraverso i canali di Google Meet e di tutti gli altri strumenti che abbiamo avuto a disposizione anche per la didattica a distanza e poi un po' alla volta è nato il desiderio anche per i ragazzi di tornare alla realtà, quindi di passare da questa modalità nuova con la quale abbiamo affrontato la scuola ad un ritorno all'esperienza viva, anche perché il teatro è esperienza, è umanità e non è solo virtualità, quindi abbiamo avuto proprio bisogno di ritornare a questo. Quindi da quest'estate abbiamo ripreso le prove e finalmente possiamo mettere in scena questo spettacolo che prepariamo già dall'agosto dell'anno scorso, quando alcuni di noi sono stati a Cracovia per il 75esimo dello stermino dei Rom Sinti nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Eravamo stati lì con i sopravvissuti, abbiamo preso la loro testimonianza e l'abbiamo scritta in questa storia che racconta di come l'uomo ha saputo distruggere il diverso all'interno di un campo di concentramento, in modo particolare il Rom quale elemento di diversità e di fastidio e di come invece poi il circo che gli stessi Rom hanno creato sia stata invece l'esaltazione del diverso e della diversità. Le gradinate del cortile del Marconi sono state sanificate, riverniciate e pronte a ospitare 500 studenti, amici e familiari nell'assistere a un musical unico nel suo genere, che è nato in lockdown con prove musicali, attoriali e riunioni scenografiche tutte partorite a distanza e in videoconferenza. C'era molta paura ma comunque noi abbiamo fatto le prove, i diversi settori si sono organizzati in diversi modi, noi attori siamo stati più fortunati perché comunque per le scene potevamo provarle una alla volta nelle diverse scene ed è stato difficile ma comunque una cosa bellissima perché la quarantena non è stata facile per nessuno e neanche per me e il momento di prove nel pomeriggio era un momento davvero molto, molto, è un momento che salvava e che metteva allegria e che metteva comunque spensieratezza anche se è una cosa in cui serve impegno, una cosa in cui c'era collaborazione, in cui tu parlavi col tuo amico prima di incominciare le prove, prima e poi timidesima del personaggio e quindi avveniva quella magia lì che parzialmente avveniva ma comunque sempre avveniva in un momento così difficile, quindi è stato difficile ma davvero bello, noi siamo davvero tanto felici di fare il musical e siamo molto felici perché è stato un anno complicato per tutti e davvero per noi è una grandissima opportunità, una grandissima salvezza. Sarà un'esperienza teatrale diversa perché il teatro non è esattamente un teatro, è un cortile, il cortile interno alla Lecce Scientifico Marconi, che cosa comporta questo cambio di location? Comporta, come ha detto prima il mio professore, la proattività, nel senso che sì, non è il teatro Rossini, non è la solita esperienza, non è la tradizione, ma è stata trovata una soluzione davvero incredibile perché è davvero bello, anche ci mettiamo in gioco in una nuova modalità, cioè bellissimo perché abbiamo un cortile, sembra quasi un set cinematografico ed è davvero una cosa nuova, una cosa che vivremo al massimo e che già stiamo apprezzando tantissimo nonostante le difficoltà e anche la diversità dagli anni scorsi. Grazie. Grazie.